Questo è il mese al preziosissimo sangue di Gesù. 20 luglio I ministri del sangue Gesù è stato il primo sacerdote che ha offerto al Divin Padre il proprio sangue per la remissione dei nostri peccati. Per perpetuare la sua offerta, nell'ultima cena, dopo l'istituzione dell'Eucaristia, istituì anche il sacerdozio. Fate questo in memoria di me. Questa verità è confermata dagli apostoli e dalla perenne tradizione della Chiesa. Il sacerdote, dice Sant'Omaso, dovendo essere ministro del prezioso sangue, è consacrato dal sangue di Cristo. Nella consacrazione, Eli riceve i più ampi poteri. Consacrare il corpo e il sangue di Cristo assolvere dai peccati, conferire la grazia nei sacramenti, pregare per il popolo e in nome del popolo cristiano. E' davvero il signore del sangue. Chi chiama il sacerdote ad un ufficio così alto? Non si diventa sacerdoti di proprio arbitrio, ma solo chi è chiamato dal signore può salire l'altare. E Dio non ha preferenze per uomini di illustre casato. Anzi, sceglie quasi sempre i suoi sacerdoti tra le famiglie più umili e povere. Se grande è la responsabilità del sacerdote, grande è anche la sua dignità e il rispetto al loro dovuto. Se al sacerdote tocca diministrare il sangue di Cristo, questa funzione rende divina la loro dignità e stabilisce il debito di riverenza da parte di tutti. Riverenza che va a Dio stesso e a questo glorioso sangue. Quante benemerenze del sacerdozio cattolico. Sia nel campo della carità, sia in quello delle scienze e del progresso, è sempre stato all'avanguardia fino al più sublime eroismo. Eppure il sacerdote è l'uomo più odiato e perseguitato. Ma è lì sull'esempio di Cristo. Sa perdonare ai suoi persecutori ed è lieto di poter unire il proprio sangue a quello che tutti i giorni offre sull'altare. Esempio Il cardinal Masaya racconta che nel 1863 in Abissinia due nuovi convertiti, marito e moglie, chiedevano continuamente d'essere amessi alla Santa Comunione. Finalmente li accontentò e nella loro capanna adobata all'amelio iniziò la celebrazione della Santa Mesa. Subito dopo la consacrazione del calice, la donna cominciò a gridare «Fuoco! Fuoco!» Le chiese allora la ragione di quel grido e della disse «Quando avete alzato il calice, ho visto scendere dal cielo un fascio di fuoco. Le vostre mani erano infocate e anche il calice era infocato». Il Masaya pensò a un'allucinazione «O esaltazione della povera donna» e la misse alla prova. Inalzò dopo la consacrazione prima un'ostia ed un calice non consacrati, poi quelli consacrati e dovette ricredersi perché la donna continuava a vedere rosseggiare di fuoco solo l'ostia e il calice consacrati. Non disse Gesù che era venuto a portare il fuoco sulla terra, il fuoco del suo amore perché di esso bruci il mondo intero. Ha ordinato ai suoi sacerdoti di mantenerlo vivo in tutte le anime colmandole del suo sangue prezioso. Proposito Rispetta ed ama il sacerdote perché dispensa i tesori del sangue di Cristo. Giaculatoria O Gesù, eterno e somo sacerdote, io offro il tuo sangue prezioso all'eterno Padre affinché mandi nella sua chiesa santi e ferventi sacerdoti.